Vessillo Isato in zona mare, Pesaro per il sedicesimo anno consecutivo ha conquistato il prestigioso riconoscimento dei comuni con le acque sicure. La 34esima edizione della manifestazione premia infatti le spiagge di Ponente, Levante e Sottomonte, importantissimo il raggiungimento della classificazione di Buona per quella di Baia Flaminia che conferma il trend positivo per la stagione 2019 del litorale pesarese e fa ben sperare per un riconoscimento futuro. Questa bandiera blu anche quest'anno è un grande riconoscimento per la città di Pesaro perché di nuovo andiamo a ribadire, ad attestare che il nostro mare è un mare pulito, è un mare accogliente, è un mare che è facile, bello e piacevole frequentare ma bandiera blu non significa solo qualità dell'acqua ma significa anche la qualità dei servizi, la qualità della spiaggia, dei servizi offerti quindi per il turismo, per i residenti. Per cui è un'ulteriore conferma che Pesaro è una città accogliente e che può rispondere ai servizi e ai bisogni di tutti, sia cittadini che turisti.